Certo che dona proprio. Eh, a te dona. Io sembro un sacco. Il nostro lavoro potrà capitare che non ci siano orari, ferie, riposo. Che cosa stai guardando? Una bellezza rara. Una di quelle che vedresti per finito. Siete pronti per la vostra prima uscita da Veneri? Cioè? È così che a Milano chiamano le commesse del paradiso. Quando la sera usciamo a fine turno, c'è la fila di maschi che aspetta fuori in attesa di una brava ragazza da sposare. E sono anche di famiglia media. Doar una va fi mai presus de toate. E poi sei impazzita? Me la gioco come dico io. Paradisul Femeilor. Un nou serial italiano in premiera. Di 9 octombrie della 1550 La Prima TV.